Marcello Arnone, qui una sorpresa perché ovviamente tu stai presentando questo film bellissimo in cui tu sei un personaggio importante di Marco Risi, di questo film che si intitola? Il Punto di Ruggiada Esatto, però insomma ti conosco da anni nel mondo del cinema, grande attore interpretazioni varie, quindi sei veramente una testimonianza calabrese che è riuscita un po' a svoltare nel cinema a livello nazionale ed internazionale Allora il terzo film con Marco Risi, quindi un sodalizio importante Marco lo considero un fratello anche perché è una persona veramente speciale proprio a livello umano, per cui è impossibile non volere bene a Marco Parliamo di questo film ovviamente anche un po' autobiografico per il regista e della tua parte Ma è un film ispirato alla vita del papà, non posso dire altro e poi il mio è un personaggio buffo perché sono il guardiano di questa villa per anziani quindi io mi sento un duce, un dittatore, però invece poi sono buono Ma un po' come sei che sembri così perché si vede che è una bella voce però poi alla fine sei sensibile, sei molto simpatico, empatico Lei lo può dire benissimo perché in un film abbiamo lavorato insieme ed era una mia vittima Eri cattivo con me però Ma con te essere cattivo proprio Cioè ma sai io quando mi propongo uno dei film in cui devo essere violento verso le donne è una cosa che mi manda in tilt, non riesco È vero, è vero, mi ricordo che comunque riuscivi bene perché come attore però effettivamente è un gap, un ruolo un po' complicato Allora Marcello, adesso sta uscendo questo film di Marco Risi Poi i prossimi progetti, avventure? Guarda ci sono in uscita altri due film Uno, il titolo è Una preghiera per Giuda dove il mio rivale è Macete, Danny Treju Attore che lavora spesso nei film di Quentin Tarantino E poi un altro film dal titolo E la regia di? Massimo Paonci E poi c'è sto film Runner di Nicola Barnaba dove sono un poliziotto privato Bene, bene E tutte e due sono comunque in Italia, girate in Italia? Sì, girate in Italia Ormai forse mi sono fatto vecchietto, non mi fanno andare più fuori No, che vecchietto, assolutamente Bene, allora so che sta iniziando la proiezione e poi hai parlato benissimo di Marco Risi quindi deve essere contento anche di questa cosa biografica insomma è anche esaltazione come persona e poi allora un in bocca al lupo perché te lo meriti e so che appunto non dimentichi la Calabria perché ti piace la tua terra però ha anche tante esperienze fuori Sì, certo, lavoro soprattutto fuori in Calabria lavoro col contagocce però quando capita sono felicissimo Però abbiamo visto e intervistato anche Anton Giulio Grande della Film Commission Calabria Carissimo amico Sì, stilista e bravissimo Grazie a Marcello Arnone A presto in bocca al lupo Grazie a Marcello Arnone Grazie a Marcello Arnone Grazie a Marcello Arnone